Avvicinare i giovani all'imprenditoria e far fronte allo spopolamento delle città dell'entroterra Piceno. Questo è il fine del progetto POG alias Piceno Orienta Giovani, che prenderà il via in risposta all'avviso pubblico del Lanci Nazionale. Sono chiamati ad iscriversi i ragazzi dai 18 ai 35 anni che hanno interesse e motivazione di intraprendere un'attività imprenditoriale. I comuni coinvolti sono 5 a Scolipiceno come capofila del progetto, che ospiterà un hub a seguire i comuni di Arquata, Montegallo, Comunanza e Acquasanta, che avranno degli infopoint così da dare un punto di riferimento fisico, di incontro, informazione e formazione. Insieme ai comuni e alle università locali, Unicam e Politecnica delle Marche, si sono uniti diversi imprenditori e partner con nobili obiettivi. Hanno l'obiettivo di mettere in piedi dei servizi che possano accompagnare i giovani verso il mestiere dell'imprenditore, quindi la scoperta delle proprie attitudini imprenditoriali e un supporto alla creazione dell'impresa. E se l'obiettivo ultimo del Bando è quello di far emergere talenti e prevenire lo spopolamento delle zone già colpite duramente dal sisma del 2016, il progetto POG, grazie alla grande sinergia tra istituzioni e denti privati, può offrire un'ampia gamma di interventi, di orientamento e coinvolgimento direttamente nei luoghi di residenza dei giovani all'interno dei territori dei comuni coinvolti. Trattenere e riportare i giovani nel territorio è uno degli obiettivi del Bando, a cui abbiamo risposto mettendo insieme una serie di professionalità che fanno capo alle università e agli enti del territorio che in sinergia tra loro si occuperanno di orientare i ragazzi e aiutarli ad avviare delle attività imprenditoriali sulle specificità del territorio ma non solo.